Buongiorno a tutti, con questo breve video intendo condividere con voi i vantaggi e la funzionalità di una piattaforma open source di videoconferenze che si chiama Jitsi e vediamo innanzitutto due parole su Jitsi stesso se nel motore di ricerca noi scriviamo Wikibooks Jitsi troviamo poi ai primi posti, al di là di qualche link dedicato un link che porta direttamente a una brevissima descrizione all'interno di questo ambiente libero, si chiama Wikibooks dove sono descritti alcuni strumenti collaborativi in particolare siamo nel sottocapitolo collaborare in modo sincrono troviamo un'indicazione su un pad cioè una lavagna condivisa che è Framma Pad che magari utilizzeremo anche in combinazione con Jitsi al posto della lavagna condivisa di Jitsi stesso e poi in videoconferenze vedete che ci sono due o tre informazioni che abbiamo messo un due o tre anni fa sull'uso di questo strumento con alcuni magari utili consigli iniziali peraltro la piattaforma si è ultimamente evoluta e se non sbaglio consente anche adesso la registrazione dei contenuti di una videoconferenza stessa costruire e gestire una videoconferenza con Jitsi è molto semplice vediamo, andiamo a scrivere Jitsi sul motore di ricerca ed eccoci che siamo nella pagina introduttiva al servizio notate che c'è Start e Call bene, clicchiamo su questo pulsante e troviamo immediatamente la possibilità di dare un titolo alla nostra videoconferenza proviamo a scrivere, non so, Tutorial tutorial Jitsi del 25 febbraio 20 vedete che poi potete collegare il calendario potete anche, prima di andare direttamente nell'ambiente usufruire anche di una versione su mobile insomma avete tutta una serie di strumenti aggiuntivi compresa anche una sorta di calendario a ritroso che vi riporta ad altri momenti che avete utilizzato per gestire videoconferenze similari ad esempio ne ho fatte una il 16 ottobre 19 un altro il 24, un altro il 13 febbraio bene, vai automaticamente crea un link che vedete è analogo a quello che trovate adesso io magari elimino un attimo la mia faccia che è anche poco interessante non mi ricordavo che mostrava subito il video cliccando in basso io vado a inibire la nostra videocamera non sono tantissimi gli strumenti ma sono tutti estremamente efficaci e semplici da utilizzare innanzitutto vedete qua in alto che si è creato il link mit.ilungoit.si slash tutorialilungoitsi in pratica 25 febbraio 20 in pratica la stessa denominazione giustamente senza gli spazi e quello è già automaticamente il link che potete dare alle persone che partecipano in basso avete tre pulsanti fondamentali quello in mezzo su sfondo rosso indica la chiusura della videoconferenza quindi si esce della videoconferenza e dell'ambiente e quelli che interessano maggiormente sono quelli laterali quelli del microfono e quello della videocamera il mio consiglio è utilizzare il microfono soltanto quando si parla sappiamo che più microfoni contemporaneamente accesi occupano troppa banda e questo consente anche una presenza più numerosa di partecipanti io personalmente l'ho testato fino a perché testato l'ho utilizzato in videoconferenza abbastanza limitate fino a una quindicina di persone ma i miei amici e colleghi sanno e mi dicono che l'hanno utilizzato anche con un numero maggiore fino a 50 o forse più poi abbiamo altri strumenti laterali alla sinistra abbiamo condividi schermo poi abbiamo la classica mano alzata e poi abbiamo la chat il primo è quello di condivisione schermo vi consente una volta che cliccate su di esso di avere a disposizione i tipici strumenti delle videoconferenze quindi la possibilità di condividere ad altri il proprio schermo piuttosto che di condividere la finestra di applicazione o le schede chrome nel caso in cui stiate navigando con chrome stesso in altri termini potete mettere a disposizione delle vostre persone tutti i contenuti web che ritenete opportuno semplicemente andando a selezionare la modalità e cliccando successivamente sul tasto condividi accanto a questo oltre alla mano alzata avete anche la possibilità di gestire in automatico cioè in automatico parallelamente una chat che poi può essere salvata e riutilizzata vediamo gli ultimi strumenti molto semplici sulla destra la possibilità di attivare o disattivare una visualizzazione di tipo griglia la possibilità di condividere il collegamento e le informazioni della chiamata per questa conferenza e in questi tre puntini laterali avete degli strumenti d'uso particolarmente significativi tra questi vedete inizia a registrare adesso non ricordo bene la finalizzazione comunque in ogni caso vi consentiva di registrare e di salvare il contenuto della videoconferenza sul cloud ecco non ricordo bene forse era su entrambi se questo era consentito sia su Drive sia su Dropbox o su uno solo di questi due strumenti o su altri ancora cliccando vedete ecco c'è carica su Dropbox bene abbiamo avuto la risposta e quindi uno strumento di accompagnamento utile in questo caso offerto direttamente da Gizzi è quello di avere uno spazio su Dropbox che diventa poi elemento di destinazione della registrazione stessa poi avete la possibilità di andare anche a gestire delle statistiche lasciare dei feedback finali e soprattutto utilizzare dei dispositivi di impostazione o quant'altro tra quelli che vi consentono di andare a verificare settare eventualmente o a controllare videocamera e microfono e uscita audio avete la possibilità di impostare il nome da visualizzare come partecipante alla riunione stesso con anche un indirizzo email questo è molto importante in modo che i partecipanti siano nominati quindi solitamente il consiglio che io do è andate subito su impostazione profilo a inserire il vostro nome poi la possibilità di gestire un calendario e altri tipi di funzionalità aggiuntive comprese la lingua comprese anche la modalità di inizio di videoconferenza anche qui quello che io consiglierei è cliccare in corrispondenza di tutti cominciano con il microfono disattivato in modo che compaia direttamente la barra sul pulsante che corrisponde al microfono stesso e nel caso in cui più persone entrino contemporaneamente non ci sia il pericolo di occupazione contemporanea di banda l'utilità di questo strumento peraltro che vedete anche una gestione abbastanza orizzontale rispetto ad altri sistemi di videoconferenza è anche un po' una gestione educativa della partecipazione a livello di comunità e quindi il sapersi tra partecipanti siano essi docenti, personale vario, adulti piuttosto che studenti di gestire la propria partecipazione con rispetto rispetto alla parola altrui e quindi saper anche fermarsi quando è necessario e lasciare spazio ad altri un esercizio molto interessante infatti nel momento in cui si utilizzano d'aula questi strumenti è quello anche di variare una sorta di moderatore interno che poi è quello che si preoccupa un po' di gestire anche il flusso degli interventi in parte sollecitati anche attraverso la chat e attraverso la mano altata uno strumento di accompagnamento utile è una lavagna condivisa che piuttosto che essere una integrata con il sistema consiglio essere FramaPad andiamo anche qui a cliccare FramaPad altro strumento libero vedete, trovate cliccando FramaPad il link è diretto alla risorsa framapad.org slash it dove c'è la possibilità di creare un pad e scrivere in modo collaborativo esattamente come vedete qui peraltro è possibile anche dare una temporizzazione di presenza online di questa risorsa che può essere di una settimana vediamo qua un giorno, una settimana, un mese due mesi, sei mesi, un anno e quindi può essere sempre a disposizione ad esempio se noi andiamo qua a nominarlo questo ancora come tutorial Jitsi 20 Feb 20 e decidiamo in questo caso soltanto un giorno perché è soltanto una prova vedete, creo il pad e automaticamente lo avete a disposizione con tantissimi strumenti aggiuntivi a questo punto voi vi create attraverso appunto la normale funzionalità di qualsiasi editor non troppo limitato vedete che avete gli strumenti del corsivo del sottolineato piuttosto sottolineato sappiamo chi si occupa di accessibilità ebbene o meglio di usabilità è meglio utilizzare perché indica link abbiamo il grassetto abbiamo ribarrato abbiamo l'elenco puntato abbiamo i rientri abbiamo l'annulla l'ultima operazione la ripetizione l'apice il pedice soprattutto abbiamo gli stili per chi come me ha avuto una formazione molto attenta alla strutturazione dei test e la possibilità di strutturare un testo anche dentro un pad ne favorisce alcuni elementi proprio sia di leggibilità che anche di accessibilità cioè di fruizione da parte di tutti la possibilità di gestire i colori la possibilità di inserire qua il vostro nome con la scelta magari di uno sfondo e di scrivere in modo collaborativo personalmente io chiedo sempre al moderatore o a una seconda persona di aiuto nel gruppo di lavoro di fungere un po' da colui che regista testualmente quello che è la videoconferenza stessa e quindi riporta direttamente sul pad o attraverso la chat poi sul pad i contenuti che via via vengono a essere espressi magari in un confronto in una discussione questo diventa poi uno strumento collaborativo a disposizione che si apre poi a tanti tanti sviluppi bene spero di essere stato sufficientemente chiaro ma ci tenevo perché le volte che l'ho usato veramente mi sono trovato di fronte a uno strumento gratuito semplice ed estremamente efficiente e quindi mi sembra doveroso condividerlo e consigliarlo a tutti voi grazie ancora grazie a tutti